Buongiorno a tutti, sono Riccardo Coli, Head of Communication di Juventus, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di mister Tiago Motta. Prima di lasciare spazio a voi alle vostre domande, e vi ricordo che le domande saranno rivolte esclusivamente al mister, saluto e do la parola al nostro Chief Executive Officer Maurizio Scanavino e al nostro Managing Director Football Cristiano Giuntoli. Grazie, prego Maurizio. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi è la giornata in cui diamo il benvenuto ufficialmente al nostro mister Tiago Motta, un tecnico giovane, ambizioso, molto determinato, che si è unito noi al termine di un'importante stagione al Bologna e che ci aiuterà a proseguire il percorso di crescita della squadra all'insegna della competitività e della sostenibilità che sono le linee guida del club. La prossima stagione sarà una stagione entusiasmante, avremo ben cinque competizioni a cui partecipare con una moltitudine di partite. Ieri vedevamo insieme il calendario e a parte poche settimane avremo praticamente sempre due partite a settimana. Parteciperemo, come sapete, oltre al campionato e alla Coppa Italia, alla Supercoppa italiana, alla Champions League e al Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Quindi una stagione in cui noi vogliamo essere competitivi al massimo in tutte le competizioni a cui parteciperemo senza porci nessun limite e per quanto riguarda il campionato avendo come obiettivo minimo quello di raggiungere la qualificazione in Champions League. Ne approfitterei prima poi di lasciare la parola ai colleghi anche per darvi una piccola vista su quella che è la nuova organizzazione sportiva. Tutta la parte sportiva maschile è guidata da Cristiano Giuntoli al quale rispondono Giuseppe Pompiglio, anche qui con noi Cifo Staff, Stefano Stefanelli che sarà responsabile dello scouting, Claudio Chiellini responsabile della Next Gen e che lavorerà con l'allenatore Montero che da quest'anno appunto sarà allenatore della Next Gen, Massimiliano Scaglia che è responsabile dell'Under 20 e con il nuovo allenatore Magnanelli e Gianluca Pessotto sarà il coordinatore tecnico di tutto il settore giovanile. Si è unito a noi anche Michele Sbravati dopo una lunga militanza al Genova che sarà responsabile di tutto il settore giovanile dall'Under 17 in poi e di tutta l'Academy che si occuperà dello sviluppo dei giovani talenti all'interno della filiera del nostro club. Ci tengo anche a citare l'organizzazione sportiva femminile che sarà guidata ancora quest'anno da Stefano Braghin e al quale si è unito il nuovo allenatore Canzi e Carola Coppo che sarà la responsabile di tutta l'area Academy. Non mi dilungo oltre, lascerei quindi la parola a Cristiano per darvi qualche approfondimento sulla parte sportiva. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. In primis credo che sia doveroso il ringraziamento a Tiago di aver accettato questa sfida e gli faccio un grande bocca al lupo. Volevo fare il punto con voi brevemente sul mercato di quello che è stato fatto. Sono stati ceduti quattro calciatori, Iling Junior, Bari Nescea, Ken e Caio Giorgio e sono arrivati tre calciatori e ne sta per arrivare il quarto che sono Douglas Lewis e Di Gregorio. Speriamo ad arrivare a Cabal e Turam. Volevo fare delle precisazioni prima di lasciare la parola al mister. Ho letto delle cose su presunti fuori rosa e quant'altro. Ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della Juventus e sono tutti bravi calciatori e dei ragazzi straordinari. Le considerazioni verranno fatte a fine mercato, ovviamente c'è il mercato aperto. Noi vorremmo fare una squadra competitiva cercando sempre di dare un occhio ai conti e quindi ovviamente ci saranno ancora degli sviluppi. Vorremmo appuntellare ancora la squadra con un calciatore per reparto per dare al mister il massimo di quello che noi possiamo fare in questo momento e basta. Questo ci tenevo. Poi per finire volevo ringraziare Rabiot che il 30 giugno è scaduto il contratto e gli vogliamo augurare tutti un felice futuro professionale non. Grazie. Grazie Maurizio e Cristiano e prego di accomodarvi in prima fila così possiamo iniziare la conferenza come sempre vi chiedo di presentare voi e la vostra testata e di fare solo una domanda a testa e iniziamo da Juventus.com. Stefano Salerno, Juventus.com, buon pomeriggio mister e benvenuto in bianconero. Dove? Sono qui. Salve. Volevo chiederle quali sono le sue sensazioni in questi primi giorni che ha trascorso qui, qui sta conoscendo i giocatori, l'ambiente e anche cosa ha pensato dell'accoglienza che i tifosi le hanno riservato al suo arrivo al J-Medical e nei giorni scorsi alla Continassa. Grazie. Prima ringrazio a Maurizio e a Cristiano, ringrazio la vostra presenza. Sono contento, sono felice, soddisfatto di essere arrivato oggi a fare l'allenatore di questo club storico come la Juventus, un club ambizioso e penso che ho la convinzione oggi che si apre un ciclo molto interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato una struttura di lavoro molto bella e molto preparata con gente con una grande competenza nel loro lavoro, mi stanno aiutando tantissimo a me e alle persone che sono arrivate con me per questa avventura. Ringrazio anche l'accoglienza calorosa dei nostri tifosi e sono molto contento veramente oggi di essere qui con voi. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Io volevo chiederle, nei giorni scorsi abbiamo sentito Inzaghi dire che vuole un Inter più feroce. Conte ha detto che il Napoli deve dar fastidio. Lei come se la immagina la sua Juve? Come la vorrebbe? La voglio orgogliosa, una squadra orgogliosa e felice dopo ogni partita insieme ai nostri tifosi. Questo vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro dando il nostro massimo. Questo che voglio vedere sempre. Un pomeriggio, mister Giovanni Albanese, Sport Italia. Le chiedo cosa l'ha spinta a scegliere il progetto Juventus e quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere a breve termine? Grazie. Come ho detto prima, un club ambizioso, un club storico. Sono arrivato nel momento giusto. Si apre un ciclo molto interessante. Sono contento di poter essere presente e partecipare in questo nuovo ciclo. L'altra domanda era? Gli obiettivi oggi? Quello che ho in testa è prepararsi bene. Penso che siamo in un momento importante dalla stagione dove dobbiamo concentrarsi al massimo per fare una buona preparazione e quando arriveranno le partite essere pronti ad affrontare ogni squadra, ogni livello al massimo e poter competere in ogni partita. È quello che sono gli obiettivi oggi. Poi dopo vedremo. Buongiorno Tiago, Marco Bo, Tutto Sport. Benvenuto a Torino. Grazie. Prima la Juventus, come tutti noi, la vedeva da fuori. Adesso ha una decina di giorni chi la vive da dentro. Ecco, volevo chiederle cos'è che l'ha sorpresa di più, cos'è che non si aspettava di trovare nella Juventus, se c'è qualcosa in particolare che l'ha colpito. E poi se c'è un aggettivo, una frase, anzi meglio ancora un pensiero, che potrebbe racchiudere il senso che vuol dare a questi tre anni che l'aspettano. Grazie. Sorprendere sì, non mi aspettavo, no, non mi aspettavo. Ero convinto di arrivare a un club fantastico, preparato, però sì che sorprende la struttura che abbiamo. Abbiamo di tutto per fare bene il nostro lavoro e sono felice di questo. Poi i tre anni che arriveranno lo affronteremo giornata dopo giornata con grande entusiasmo, con grande energia positiva e cercando sicuramente di giocare più partite possibili. Vuol dire che la squadra sta andando bene. Buongiorno mister, benvenuto Marco Venditti, signora mia Calcio News. La Juventus è una grande società dove bisogna vincere, questa è la condizio sine qua non per essere qui, per stare qui. Lei si sente responsabilizzato di questo incarico che ha preso, cioè qui alla Juventus bisogna vincere, ecco lei, dalla sua esperienza, come si sente? Una domanda proprio sul personale di Tiago Motta, poi obbligato come si dice in portoghese, in brasiliano. Il concetto di vincere, di bisogno a vincere, sono d'accordissimo, come in tutte le grandi squadre non cambia. Sono tranquillo, sento grande responsabilità che ho, però è una bellissima responsabilità. Pensando oggi nel posto che sto come allenatore dalla Juventus, non cambierei con nessuno. Voglio dare il mio massimo, voglio cercare di trasmettere tutto questo entusiasmo e soprattutto motivazione che ho dentro e con la nostra idea andare a affrontare ogni partita al massimo e poter competere contro chiunque. Questa è la mia idea oggi. Buongiorno Alessandra D'Angiora, Esport. Ha appena parlato di responsabilità, ma alla Juventus c'è un'altra parola che l'accompagna spesso ed è pressione. Magari gliene ha fatto riferimento anche il presidente Elkan nel vostro incontro. Una pressione che vale per i calciatori e vale per gli allenatori. È pronto a farci conto? Prima è stato un grande piacere perché fa sempre bene la visita di John Elkan. Questa pressione è un stimolo in più. Ho parlato prima di responsabilità, una bella responsabilità oggi allenare questo grande club. E niente, giorno dopo giorno, partita dopo partita e fare bene il nostro lavoro. Buongiorno, Paolo Aghiemo di Sky Sport. Benvenuto a Torino. La domanda è sull'importanza della leadership e del carisma all'interno di una squadra, come aveva giocatori importanti a Bologna. Le chiedo se, da questo punto di vista, un giocatore che ha anche subito delle critiche nelle ultime stagioni, come Dujan Vlaovic, se lo immagina come, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di leadership, un giocatore che potrà trascinare in campo la sua Juve. Prima la critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Questa è la prima cosa. Vlaovic è un grande giocatore, però di sicuro il talento ha bisogno della squadra e ha bisogno di un spirito di squadra. E poi sì, quando questo funziona penso che questi talenti emergono da soli. Non ne ho dubbio che sia lui che tanti giocatori che abbiamo in squadra, con il funzionamento della squadra, faranno una grande stagione. Buon pomeriggio, Minister. Simone Nasso, oggi Sport Notizia. Lei da giocatore è stato allenato anche da Gasperini e Murigno, che qui in Italia, nell'immaginario collettivo, vengono visti come massime rappresentazioni di due diversi modi di intendere il calcio. Io le chiedo, allora, quanto il suo passato da giocatore e le sue esperienze con allenatori differenti potranno aiutarla nel coniugare la ricerca di una nuova mentalità in casa Juve con il motto del grande Boniperti, vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Grazie. Prima sul concetto di vincere, come ho detto prima, sono completamente d'accordo. Poi questo concetto, con il passaggio del tempo, sicuramente andremo ad allungarlo e non si finisce solo lì. Mourigno, Gasperini, hai nominato allenatori molto capaci, hanno fatto molto bene durante tutta la loro carriera. Sono stato fortunato, è stato un privilegio per me lavorare con loro due, ma con tanti altri allenatori che ho avuto il privilegio in carriera come giocatore di poter lavorare insieme, di migliorare, di imparare e anche di trasmettere questa passione di poter allenare. Niente, li ringrazio a tutti, ho preso un po' di ognuno di loro e oggi ho la mia idea e vado in avanti e sono convinto che con la mia idea faremo molto bene. Buongiorno, Gianni Balzerini, Sport Mediaset. Lei prima parlava di giocatori di qualità, con riferimento a Dujan Vlaovic. Le chiedo se questo riferimento si può fare anche a Federico Chiesa. L'ha detto già il nostro direttore Cristiano Giuntoli, qua dentro nella Juventus è alto livello, abbiamo solo giocatori forti e serve anche per lui. Buon pomeriggio, Romeu Agressi, il bianconero.com. Le chiedo mister, nella passata stagione la fascia di capitano del Bologna è stata un po' itinerante perché l'ha consegnata a otto calciatori. Le chiedo se adotterà lo stesso modus operandi qua alla Juve e se è un modo per responsabilizzare il gruppo. Grazie. Oggi abbiamo un grande capitano nella Juventus che è Danilo e vorrei averlo già con noi ma ha bisogno anche lui di riposare, di fare una vacanza e arrivare al pieno della sua energia sia mentale che fisica. E poi quando si andremo tutti insieme, ne parleremo insieme, valuteremo le situazioni nel momento adeguato e oggi, ripeto, sono contento di avere un capitano come Danilo e spero che arrivi presto con noi e sia con noi per poter prepararsi per questa grande stagione. Buongiorno Tiago Motta, Timoti Ormezzano per il Corriere della Sera. Abbiamo parlato di giocatori di talento, allora le faccio il nome di Ildiz che non ha ancora ritrovato ma ritroverà presto. Cosa pensa di questo calciatore anche come lo vede in campo? Se è più esterno offensivo, trequartista, seconda punta, falso nueve. Come pensa di impiegarlo? Grazie. L'ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico, come tutti mi avevano già parlato prima. In campo, da quello che ho visto, può fare qualsiasi ruolo. Uno quando ha veramente voglia, disponibilità e la volontà, ha volontà soprattutto di crescere avendo il talento che ha, ha solo da migliorare e aiutare alla squadra. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it, benvenuto a Juventus. Le chiedo, in questi giorni come valuta l'inserimento di Sule e se le piacerebbe allenarlo anche per il resto della stagione? Grazie. Oggi fa parte del gruppo, si sta allenando molto bene. Come ha detto il nostro direttore prima, niente da aggiungere, è un giocatore in questo momento della Juventus e solo ti posso dire che si sta allenando molto bene. Buongiorno mister, benvenuto. Nicola Gallo, gruppo Mediapason. In carriera è stato legato anche da un rapporto di spogliatoio e suppongo anche di amicizia con Rabiou, volevo sapere se vi siete sentiti. Se è stata una cosa così lunga o se aveva già capito da alcune settimane che non ci sarebbe stata l'opportunità di lavorare assieme, insomma, com'è andata? Su Adrian da amico sarò molto contento se lui sarà felice altrove. Lo conosco da tanto tempo e gli auguro sicuramente il meglio. Buongiorno Stefano Tagliati, GRR, si diceva prima di una stagione intensa nella quale giocherete molto, una volta o due giorni. Allora mi chiedo se tra le competizioni che voi fate pensa di porre maggiore attenzione su una in particolare, concentrarsi sul campionato piuttosto che sulla Champions? Partita a partita. Tutte le partite sono importanti. La cosa più importante è la motivazione che metteremo in ogni partita, indipendentemente dell'avversario, della competizione. È per questo che dobbiamo in questo momento concentrarsi solo a prepararsi bene. Buongiorno mister, benvenuto. Nicola Balice della Stampa. In base ai primi giorni di lavoro ma anche all'esperienza, all'osservazione della passata stagione, cosa manca o cosa serve alla Juve per tornare a lottare fino in fondo per lo scudetto? E invece sulle caratteristiche dei giocatori della Rosa attuale, chi è quello più indicato secondo lei per il ruolo di trequartista. La prima cosa torno a quello che ho detto prima, dobbiamo prepararsi in questo momento, essere concentrati su fare una buona preparazione per quando arriva l'inizio stagione essere pronti ad affrontare ogni partita. Trequartista, per me i centrocampisti devono fare tutto. Il centrocampista deve difendere, deve attaccare, deve saper giocare, deve andare al contrasto, deve fare gol. Chi è adatto a questo gioco abbiamo solo giocatori forti qua dentro. Penso che tutti i centrocampisti che abbiamo e che possiamo avere alla fine di questo mercato saranno centrocampisti che potranno fare tutto. Buon pomeriggio mister Camillo De Michelis, tutto mercato web, tutto Juve. Ieri è arrivata una giornata importante, una notizia importante per Fabio Miretti con rinnovo di contratto. volevo sapere dove può maggiormente migliorare e come lo sta vedendo in questi giorni. Prima può migliorare su tutto, è giovane, è un ottimo giocatore, ha una testa che è concentrato sul lavoro, che la priorità sua è il suo lavoro, che è giocare a calcio. Sono molto contento per lui. Ieri penso che non ha firmato un contratto, ha firmato una grande responsabilità, una bella responsabilità, continuare a giocare in un grande club come la Juventus e sono contento che sarà con noi e ci darà una mano sicuramente. Salve mister Cristiano Corbo, calciomercato.com. Lei ha dato una bella definizione di giocatore moderno, cioè giocatori che devono saper fare tutto, come ha detto poco fa. Secondo lei la Juve è piena di giocatori moderni o ha bisogno ancora di qualcosina? Grazie. È pieno di giocatori moderni. Tutti i giocatori che abbiamo qua dentro sono forti e non dico solo per dirlo. È perché l'ho visto e sto aspettando gli altri che devono arrivare. io ho sempre detto che, non ho detto che devono essere tutti utili o duttili a questo gioco o a diverse posizioni nel campo, a diversi ruoli o fare tutto nel campo. Ho detto che e che sono in pochi oggi o quasi nessuno. I fenomeni in un ruolo preciso va bene, se no dobbiamo essere tutti utili. Qua ne abbiamo tantissimi. Salve mister, benvenuto. Simone Indovino, MolaTV. Io volevo chiederle, riguardo un nuovo acquisto, ovvero Douglas Lewis, ancora non ha avuto il modo di conoscerlo. Dove se lo immagina e se secondo lei il fatto che lui raggiungerà il gruppo leggermente più tardi rispetto all'inizio del raduno può influire in vista dell'inizio del campionato oppure se ha in mente un tipo di lavoro specifico appena arriverà? Grazie. Douglas Lewis, un grande giocatore che abbiamo fatto un grande lavoro a averlo con noi, giocatore della Nazionale del Brasile che non è da poco, ha fatto una stagione importante andando in Champions League con una squadra che all'inizio stagione non era per scontato, partecipano in tutte le partite facendo gol. Voglio dire che è un ragazzo, un giocatore completo in questo momento che si adattarà facilmente nel nostro gioco. Lo vedo il centrocampo sia più alto sia più basso, anche durante la partita deve essere capace di scambiare ruoli e nella fase difensiva, dipendendo dalle squadre che andremo ad affrontare, farà anche il difensore. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia alla Gazzetta dello Sport. La Juventus lo scorso anno ha chiuso a poco più di 20 punti dall'Inter. I primi quattro acquisti e anche lei che ha il quinto, quindi Douglas Lewis, Turam, Cabal e Di Gregorio e lei che è Tiago Motta e anche le sue idee, secondo lei bastano per colmare il gap con l'Inter e lottare subito per lo scudetto o serviranno altri nesti importanti da cumminersi in giù? Il passato rimane lì, è da guardarlo ma non pensare più, penso da oggi in poi e da oggi in poi come ho detto prima concentrazione totale in prepararsi bene e che quando inizieranno le partite sia di campionato, sia di Coppa Campioni, sia di Coppa Italia e le altre competizioni che avremo, essere pronti ad affrontare ogni partita al massimo e dimostrare che possiamo competere a ogni livello. Non è un giocatore mio, non parlo di giocatori di altre squadre. Buongiorno mister, sono qua, Domenico Marchese della Repubblica, innanzitutto le faccio in bocca al lupo, lei vedrà la squadra tra mercato, vacanze dopo gli impegni con le nazionali soltanto ai primi di agosto, come è normale per le grandi squadre. Inizierà subito il campionato a metà agosto, prima si diceva che si giocheranno praticamente due partite a settimana, visti tanti impegni, pochi allenamenti, insomma quanto tempo ci vorrà per vedere la sua Juventus? Hai detto solo cose negative. No, solo tanto lavoro, tanto lavoro perché comunque le competizioni bisogna guadagnarsene. Giusto, è così, senza alibi, lo sappiamo prima di iniziare il lavoro che è così e siamo pronti a preparare e ad affrontare ogni situazione e sempre con positività. Grazie. Buongiorno, Alberto Zanello, La Press. Questa sarà la stagione più lunga di sempre, visto che andrete a disputare il mondiale per club. Le chiedo se cambia qualcosa nella preparazione e un suo giudizio su questa competizione che va, come dire, ad affollare un calendario già intasato. Grazie. È una stagione sicuramente nuova per tutti, ma da oggi non cambia niente. La preparazione nostra è sempre la stessa e prepararsi per essere pronti alla prima già partita che abbiamo in stagione e andare così partita a partita. Buongiorno mister, benvenuto a Marco Amato, Goal.com. Le volevo chiedere in una stagione così lunga quanto possono dare una mano i ragazzi della Next Gen, la seconda squadra e in particolare come ha visto Azic in questa prima settimana, se ce lo racconta. Grazie. Bella domanda. Daranno una grande mano sicuramente. In prima squadra saremo 23-24 titolari sicuramente, affrontare tante partite. Una grande concorrenza sana tra di loro per settimana in settimana, vedere chi inizierà e chi aiuterà durante le partite. Vasiliè è un giocatore molto interessante. Sono molto contento da quello che ho visto fino ad oggi in allenamento. A di là della sua età, ma guardo poco l'età, guardo quello che è nel presente. È un ragazzo che si sta allenando bene. Ha grande forza fisica, una buona tecnica, ma soprattutto mentalmente lo vedo molto preparato. In allenamento sta dimostrando di essere a livello e vedremo. Dipenderà solo da lui. Se giocare con noi, non giocare con noi o da aspettarlo un po' di tempo. Per le mie prime impressioni è che abbiamo in casa un giocatore importante. O che può diventare un giocatore importante. Bene, grazie a tutti.